Quando avevo una trentina di anni, il quartiere Il Pilastro aveva una cattiva nomea, come il quartiere Barca e Serenella. Io li evitavo. Poi, all'età di quasi 70 anni, sono venuto ad abitare al Pilastro. Al primo impatto ero un po' restivo, ma poi mi sono abituato a viverci. Un pomeriggio di una bella giornata ho fatto una passeggiata nel parco sotto casa mia. Ho visto una ragazza sulla trentina divertirsi andando in altalena. Guardandola mi sono venuti in mente i ricordi di quando ero bambino che mi divertivo andando in altalena. Guardandola mi sono venuto in mente i ricordi di quando ero bambino. Guardandola mi sono venuto in mente i ricordi di quando si sono venuto in mente i piccoli e scopi di quando ero bambino! Non conosco quasi nessuno, ma oggi, rispetto a 50 anni fa, il pilastro è molto prevedibile e silenzio, quasi un'osio di pace. Grazie.